Questa è la seconda parte della diretta, ci siete? Vediamo un po', vediamo se riesco a riprendervi, allora la seconda parte della diretta è dedicata alla resilienza cosa non è, stavamo parlando della resilienza dell'età, abbiamo visto già cosa cambia della resilienza con l'età e adesso vediamo una frase bellissima di madre Teresa di Calcutta, ci siete? Fatemi sentire. Ok, ok, ciao Giovanna, ciao carissima, ciao, adesso riprendiamo un po' quelli che riesco a riprendere molto volentieri che così finiamo la diretta, ok? Ciao Anna Maria, ciao, 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 dai che ce la facciamo, siamo resilienti, l'importante è manifestare la nostra resilienza, ok? Ok, si vede che ci sono molte persone collegate, ovviamente sapete in questo periodo sono tutti a casa, sono tutti che si collegano, sono tutti che lavorano al pc, sono tutti collegati con le persone che non possono vedere, quindi ovviamente intasano le linee, però noi abbiamo sempre il sorriso. Ciao Maurizio, ciao a tutti, ciao che ci siete, dai che ci siamo, vai, manifestiamo la nostra resilienza perché comunque non ci diamo per vinti, nonostante la rete faccia le bizze, ok? Eccoci qua. Allora, stavamo parlando della resilienza all'età, avete sentito tutto il discorso della resilienza dell'età? Vi rifletto un po' a grandi linee, con l'età la resilienza dovrebbe aumentare perché noi aumentiamo le nostre esperienze, quindi noi aumentiamo la nostra capacità di fare tesoro delle nostre esperienze, quindi di avere delle esperienze che ci insegnano come comportarci meglio per il futuro. Quindi la persona che avanza con gli anni dovrebbe diventare saggia, dovrebbe diventare maggiormente resiliente, soprattutto quando sappiamo che la resilienza per un 30% è genetica, ma per un 70% è proprio allenamento, capacità di allenarmi, capacità proprio di mettere proprio esercizio sulla resistenza e sulla resilienza. Quindi con l'età la resilienza aumenta, ma ci sono persone che purtroppo con l'età invece hanno paura del futuro, hanno paura di quello che succede domani, fanno fatica ad affrontare l'imprevisto. E queste persone sono quelle persone che non esercitano la loro resilienza, che non le allenano e che magari hanno il timore del futuro, il timor di morte si dice, no? E invece la persona resiliente è colei che riesce a usare le emozioni negative, le emozioni positive, riesce ad avere una buona spiritualità e ad avere anche delle buone virtù per essere saggiamente serena per quello che è il presente e il futuro. Molto bene, allora adesso vi leggo una frase che vi stavo per leggere prima, poi l'ho rimandata a questa seconda parte, è una frase di Madre Teresa di Calcutta, che ha scritto quando era già proprio nella massima vecchiaia. Ed è una frase molto bella perché rappresenta la persona forse più resiliente che noi conosciamo, ok? È un po' lunga, ve la leggo, poi dopo magari ve la scrivo anche nella chat. Vi fa piacere? Anche se è lunga, ve la dico, fatemi, datemi un cenno. Quindi dobbiamo ascoltare bene, ok? Provo? Vado, ok. Siete pronti? Allora, Madre Teresa di Calcutta ci dice Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni, però ciò che è importante non cambiare, la tua forza e la tua convinzione non hanno età, il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni linea d'arrivo c'è una linea di partenza, dietro ogni successo c'è un'altra delusione. Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. Non vivere di foto ingiallite. Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te. Fai in modo che invece, che compassione, ti portino rispetto. Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. Quando non potrai camminare veloce, cammina. Quando non potrai camminare, usa il bastone. Però non trattenerti mai. Bella questa frase, vero? Penso che veramente sia bellissima rappresentazione della resilienza. Di una donna che va avanti sempre, non si arrende, anche se non vuole vincere. Non è importante vincere, come diceva Frida Kahlo, ma è importante resistere ed essere resilienti e continuare. E quindi manifestare resilienza. Bene, bene, bene. Allora, volete consigli pratici? Ok, vi do i quattro consigli pratici stasera, ma ci sono anche i consigli pratici che vi diedi nella resilienza passata, nella diretta passata, sempre sulla resilienza. Stasera ho quattro consigli pratici per allenare la nostra resilienza. Il primo consiglio pratico è questo. Allena le tue skills comunicative, cioè le tue abilità comunicative. Le tue abilità comunicative stanno nel comunicare bene con gli altri, ma prima di tutto comunicare con te stessa, con te stesso. Quindi ascolta, perché la comunicazione è soprattutto ascolto, ascolta e trova la parola giusta per quella persona. Ascoltati e trova la parola giusta per te stesso, per migliorarti, per motivarti. Quindi prima di tutto allenare le abilità comunicative. Cercate di trovare sempre una parola giusta per qualsiasi persona. Io penso che la persona che ho conosciuto con maggiori abilità comunicative, sapete chi era? Era Federico Fellini. Federico Fellini è stato un mio paziente. È stato un paziente che ebbe un ictus nel 1993. Io l'ho curato per due mesi. Sono stati due mesi meravigliosi della mia esperienza di vita, in primis, e soprattutto di professionista medico. E con lui abbiamo passato tantissime ore al giorno proprio a lavorare sulla sua mente e con la sua mente. E Federico aveva per ogni persona la parola giusta. Cioè lui rappresentava l'intera umanità dentro la sua mente, dentro la sua testa. Aveva le modalità comunicative per ogni persona. Dal Presidente della Repubblica al Sindaco, alla persona che veniva a fare le pulizie nell'ospedale. Aveva sempre la modalità comunicativa giusta con tutti. Questo è resilienza, perché trovare la parola giusta vuol dire anche trovare la soluzione giusta. Perché le persone ci aiutano a trovare le soluzioni giuste. Quindi il primo punto è sviluppare le nostre abilità comunicative, sia in ascolto che in produzione, con tutte le persone e anche con noi stessi in primis. Ok? Primo consiglio pratico. Secondo consiglio pratico per migliorare la nostra resilienza è allenare la nostra capacità di problem solving. Come risolviamo i problemi di vita quotidiana? Come ci ingegniamo proprio a trovare una soluzione creativa? Quindi sviluppare la nostra capacità di problem solving, la nostra capacità anche di essere flessibili. Non c'è un unico modo di cucinare una torta, non c'è un unico modo di visitare un paziente, non c'è un unico modo di fare un percorso, un tragitto che mi porta a casa. Ci sono n modi e se in quel momento, in quel contesto è utile cambiare, cambiamo il modo. Ok? Quindi risolviamo il problema e siamo flessibili. Questo è un altro grande consiglio che vi do. E soprattutto trovare delle strategie di risoluzione. In questo, nel cercare, trovare soluzioni alternative, è molto utile avere un team di persone. Avere, fare brainstorming, sentire le idee degli altri. Poi magari decidiamo noi che siamo il capitano che deve decidere. Io ho un team bellissimo, però alla fine decido io. Ma se io non sentissi il parere di tutte le persone, io sarei meno ricca di quello che è la mia possibilità di mente di poter risolvere un problema. Quindi ascoltiamo e spesso poi troviamo anche le soluzioni insieme. Quindi sono anche più tranquilla nel prendere una decisione che poi è condivisa, perché veramente ha ascoltato il parere di tutti. Secondo punto era questo. Quindi il primo è abilità di comunicazione, sia in ascolto che in parola. Il secondo punto è la capacità di problem solving, quindi di risoluzione di problemi. Terzo punto, come sviluppare la resilienza. La resilienza la si sviluppa con la creatività, col creare nuove situazioni. Adesso che siamo fermi, presenti, qui immobili, non ci possiamo muovere, siamo sempre nello stesso spazio ristretto, creiamo cose nuove per quando sarà il futuro più libero di uscire. Generiamo nuove idee, generiamo nuovi progetti. La creatività, la genesi, la capacità di produrre, di generare, fa parte della resilienza. Perché la resilienza vuol dire creare cose nuove, creare mondi nuovi. Ok? Terzo grande suggerimento. Quarto suggerimento che vi do, fondamentale per la resilienza, è aiutare gli altri. Quanto più noi aiutiamo gli altri, tanto più aiutiamo noi stessi. In primis perché ci sentiamo utili. Quando vogliamo aumentare la nostra resilienza, dobbiamo anche capire quanto nella nostra resilienza siamo utili al mondo, siamo utili all'ecosistema, abbiamo un nostro perché, è un nostro why che ci fa stare qui su questa terra. Cioè vediamo anche da un punto di vista spirituale il nostro essere qui su questa terra. Quindi nel momento in cui noi ci rendiamo utili, anche se siamo in una situazione di difficoltà, vediamo che possiamo aiutare gli altri rendendoci utili. E l'aiutare gli altri ci regala questo grande dono proprio del sentirci utili, nel sentirci gratificati dall'essere utili su questa terra a qualcuno, a qualcun altro, a qualche situazione. Quindi aiutiamo le persone, abbiamo tantissime persone da aiutare. Non solo le persone che conosciamo nel mondo del lavoro, nella famiglia, negli amici, ma anche persone sconosciute, anche persone che proprio sono per noi del tutto nuove. Noi possiamo aiutare qualsiasi persona, per la strada, in un luogo pubblico, con una telefonata. Veramente non c'è limite all'aiutare gli altri e a metterci a disposizione. Ok, quindi vi leggo poi una frase a proposito di questo ultimo suggerimento, che è una frase di Herman S, che è questa. L'amore non bisogna implorarlo e nemmeno esigerlo. L'amore deve avere la forza di attingere la certezza in se stesso. Allora non sarà trascinato, ma trascinerà. Quindi l'aiuto come amore incondizionato verso l'intera umanità. Quindi l'aiuto verso l'altro è amore, è dono. Senza aspettarci, se non il fatto di essere contenti di avere aiutato, nulla in cambio. Questo fa parte della resilienza. Le persone resilienti sono persone molto generose, che danno prima di ricevere. il cosiddetto giver, prima del gain, no? Prima dono, poi magari ricevo, ma non necessariamente. Ok, questo è l'ultimo grande consiglio per aumentare la nostra resilienza. Bene, vediamo un po' se ci sono domande, osservazioni. Maria Grazia, assolutamente sì, è necessario impegnarsi. Non si può avere resilienza senza l'impegno e si allena. Come quando vai in palestra. Per esempio quando vai in palestra e fai esercizio fisico, ti devi impegnare. Non è che ti fai muscoli senza fare fatica. Bisogna fare fatica anche nell'allenare la resilienza. Ah, la frase vi era piaciuta tantissimo, quella di Madre Teresa di Calcutta. Immagine, è veramente molto bella. Adesso vi dico che stasera vi ho dato i consigli per migliorare la vostra resilienza. Domani mattina riceverete gli esercizi, stasera consigli generali, generici, diciamo, generali che potete già applicare subito nella vostra vita. Domani proprio esercizi, uno per giorno, per cinque giorni, fino alla prossima diretta che sarà mercoledì prossimo, tranne un giorno in cui dopo la quinta giornata di esercizi c'è un giorno di riposo e poi c'è la diretta. Mi raccomando, fateli, condivideteli. Poi un'altra cosa importante che vi ricordo, vi ricordo che potete diventare top fan, proprio quindi fan accesi e fan vivaci e i migliori top fan appunto della pagina Mente Giovane se voi mettete una recensione sulla pagina e se portate anche degli amici a fare la recensione sulla pagina. Se fate almeno tre recensioni sulla pagina e poi fate like, fate taggate, condividete, vedo che molti di voi condividono, diventate i nostri top fan. Per chi è il più alto top fan della settimana c'è sempre un omaggio, che è questo, che è il mio libro, che è uscito a dicembre dell'anno scorso, è quel tesoro del tuo cervello, neuroscienze applicate. Quindi questo lo si può vincere, lo si può vincere se diventate il top fan della settimana. Come fate per vincerlo? Potete fare la recensione sulla pagina Mente Giovane ma anche sulla pagina Brain Care di Facebook, mettere le vostre stelline, i vostri commenti e portare amici, taggare e tutto quello che si può fare su Facebook. Il top fan della settimana vince il libro e vi arriverà a casa, oppure lo venite a prendere a Padova e vi posso fare anche la dedica personalizzata. Quindi mi raccomando, potete diventare il top fan della settimana, sapete come fare. È importante anche fare proprio una recensione sulla pagina Mente Giovane in modo tale da dire quanto Mente Giovane, il progetto Mente Giovane, vi è utile nella vostra vita. Io ricevo tanti commenti positivi e la settimana scorsa abbiamo inviato due libri vinti dai top fan, quindi anche voi potete diventare il top fan della pagina Mente Giovane. Inoltre, cosa vi voglio dire? Abbiamo un corso bellissimo sull'anti-aging online venerdì pomeriggio e sabato mattina, è qui a Padova, ma ovviamente non si può venire a Padova, quindi solo online in questo weekend per migliorare il nostro cervello sia nelle funzioni cognitive che nelle funzioni emozionali. e questo è possibile farlo sia misurandoci le abilità che allenandole. Anche questo è molto interessante, se avete voglia di avere notizie, scriveteci e ve le diamo. Infine, cosa vi voglio dire ancora? Che la prossima diretta è bellissima, ho già individuato l'argomento, stiamo già lavorando per voi. e poi vi voglio dire che al secondo anno delle dirette che è intorno a metà aprile, adesso vediamo anche con questo periodo un po' di trambusto, però vogliamo cambiare un pochino il mondo della diretta. Avremo la diretta invece che alle 21.30, alle 21 per tutti e poi alle 21.30 solo per alcune persone che decidono di fare un percorso con noi. Quindi avremo una diretta alle 21 e un percorso alle 21.30, ma vi terremo informati su tutto. Intanto mi raccomando pensate al fatto che noi ci siamo sempre il mercoledì sera e che da metà aprile cambieremo lo stile della diretta e vi daremo qualcosa in più. Ci sarà una sorpresa alle 21.30 dopo la diretta dalle 21.00. Bene, avete domande, osservazioni, cose che volete condividere, richieste? Potete fare anche richieste di argomenti per le prossime dirette, mi farebbe veramente piacere. Ciao Sofia! Ciao carissima! Un bacio alla pupa, mi raccomando! È una meraviglia! L'ho vista nelle foto, stupenda! Bene, allora, se non ci sono domande, se non ci sono osservazioni, se vi è tutto chiaro, io vi aspetto alla prossima diretta, fate gli esercizi, cercate di diventare top fan perché potete vincere il libro. Quindi top fan con tutto quello che Facebook richiede, dal like al commento, al taggare gli amici, alle condivisioni, ok? E la recensione sulla pagina Mente Giovane. E poi vi aspetto per la prossima, ok? Quindi, mi raccomando, buona resilienza, in queste settimane ci bisogno, in queste settimane di quarantena ci vuole tanta resilienza, ma con la resilienza creeremo veramente mondi nuovi e saremo generatori di un futuro migliore. Con questo vi abbraccio, vi saluto, vi voglio bene. Ciao, alla prossima! Ciao! Ciao! Ciao!